Dante, Molveno BF, Nada Mas, Gualdo Gym, in seconda Nelita Caff, Monique Rivarco, Mistral D'Alfa, Nelson Dei Greppi. Rinuncia completamente al lancio Gualdo Gym che rimane discosto, rinuncia oppure ha un'incertezza. In ogni caso va davanti Molveno BF con a ridosso Nada Mas, in corda Noodles BF, due scento iniziali coperti in 14, prima curva con Molveno al comando. Nada che cerca spazio in corda e lo trova a metà della piegata, i concorrenti si presentano ora al passaggio di fronte alle tribune, 29 di quarto iniziale. Terza posizione alla corda per Nudos BF davanti a Nelson Dei Greppi, Monique Rivarco, poi Milton Dante. All'esterno Narcotic, Tommy Molveno, transita ai 600 in 44, su Nada, Noodles, Nelson, Monique, poi ancora Milton Narcotic a largo, Federnat. All'esterno Mistral D'Alfa, quindi Nelita Caff in coda Gualdo Gym. Si va al completamento anche della seconda curva con i concorrenti che si presentano ora sulla retta opposta alle tribune, guidati sempre da Molveno su Nada e Noodles. Muove a largo Monique Rivarco, un anticipo di Nelson Dei Greppi superato da Monique in terza ruota. Intanto il chilometro in 1'14 e mezzo, siamo sul finire della retta opposta alle tribune con Monique che insiste in terza sull'anticipo di Nada a massa. Monique si libera di Nada, sopravanza anche Molveno affrontando la piegata conclusiva. Dal fondo prova a farsi luce anche Mistral D'Alfa, gruppo compatto a 2.50 dalla conclusione con Molveno alla corda, Monique che attacca. Retta di arrivo, Molveno e Monique a darsi battaglia. Al ciglio esterno lo scatto di Mistral D'Alfa, passa Monique, interviene Mistral, Mistral va su Monique. E nel finale Mistral D'Alfa vince su Milton Dante, per il terzo sono in linea Nelita e Monique, quinto posto per Nelson Dei Greppi. A contatto anche Gualdo Gym, rientrato non male, buono per la prossima Gualdo. La vittoria per Mistral D'Alfa, Lorenzo Alessi, Gennaro Casillo che raddoppia il successo ottenuto in apertura con Remember Me e Sam. Stavolta i colori sono della scuderia Roda, la media intorno all'uno sedici e mezzo. Eccolo Mistral che viene a vincere netto, con Lorenzo Alessi, il secondo per Nada Mas, vediamo per il terzo ancora Monique. Su Nelita Caff, che è quarta, quinto Nelson, a contatto Nada, facciamo scopere ancora le immagini per vedere gli altri piazzati. E vedete, al settimo Gualdo Gym, filtrato lungo lo steccato a precedere il resto del gruppo, quindi direi Gualdo Gym che rientrava da fine agosto.